Ragazzi, ero un po' in depressione oggi perché Bitcoin è schizzato, pazzesco, ho visto più 2600 dollari nel mio portafoglio, quello che sto costruendo, di accumulo delle cripto che sto costruendo, grazie ai ragazzi della Deserve Academy. Se vi interessa, guardate, credo sia l'ultima occasione per entrare, ovviamente l'halving di Bitcoin è ancora lontano, c'è tempo per accumulare a prezzi ancora buoni, fatelo, io ve lo consiglio perché quando poi avete costruito, avete un bel budget, qualunque esso sia, però adesso hai l'opportunità di trasformare anche un piccolo budget in una liquidità che a fine 2024, inizio 2025 puoi riscuotere, quindi è un investimento con piccole cifre, a breve tempo, con grandi guadagni. Ma cosa volete di più? Ecco perché ci sgoliamo da tanto parlando di grandi opportunità nel settore cripto, proprio perché abbiamo la possibilità di investire piccole cifre, di tenerle ferme per un anno, adesso finisce in un anno, il 2024, fine 2024, inizio 2025, c'è l'halving all'aprile, 4-5 mesi dopo parte la Burran, Ok, che cosa sto dicendo? Magari non stai capendo, neanch'io mi sarei capito qualche mese fa se non fossi entrato nella Deserve Academy, che cos'è la Deserve Academy? È un gruppo Telegram curato da Alexander Lex e Manu, due trader professionisti, che hanno creato questo servizio perché loro stanno accumulando i loro, diciamo, asset crypto, e le loro cripto per costruire un portafoglio che possa generare un grande guadagno nel 2025-2024 a cavallo, non so, nessuno sa con esattezza quando inizierà la Burran, però noi stiamo accumulando adesso, perché adesso il costo delle cripto è più basso, ora c'è settembre, si è visto, cioè io sono andato talmente in fissa con questa cosa che sto accumulando, talmente tanto, perché vedo che poi ovviamente in base alle disponibilità che avete, ma però prima non facevo una cosa del genere, perché non sapevo dove mettere sti cavolo di soldi nelle cripto, è un complesso mondo, ok? Grazie alla Deserve Academy, vi lascio il link in descrizione, entrate, lasciate la vostra mail, vi arriva sia la videopresentazione di questo servizio, dove praticamente stiamo costruendo due wallet, uno da mille, uno da diecimila, e quindi Alex e Manu condividono i loro acquisti, con il budget, il ribilanciamento, tutto, siamo seguiti passo passo, poi in realtà è molto di più di questo la Deserve Academy, è formazione, impari, semplicemente stando nella chat con altre 50 persone come te che stanno imparando, e impari un sacco di cose su questo mondo, anche sulla sicurezza delle cripto, anche come funzionerà, le emozioni che provi, sei sempre seguito, e impari uno dei settori che darà maggiori soddisfazioni, anche a livello proprio puramente speculativo, appunto, nella prossima Bull Run. Che cos'è una Bull Run? Che cos'è un halving di Bitcoin? Per chi non lo sa, in descrizione c'è anche il link al corso, gratuito, abbiamo fatto un'ora di formazione gratuita proprio per spiegare l'opportunità che sia davanti, e perché siamo così sicuri? Perché è tutto ciclico, che è già successo nel 2017, è successo nel 2021, succederà nel 2025, tu dove vuoi stare? Chi vuoi essere nel 2025? L'omino che arriva ad apprendere la notizia che Bitcoin è arrivato alle stelle quando è troppo tardi, o vuoi essere quello che mesi prima si è posizionato e quindi nel momento in cui arriva la massa tu hai già un portafoglio che sta performando, bene, da solo io non sono mai riuscito a fare una cosa di questo tipo perché faccio un altro lavoro, sì, gli investimenti, investo in ETF prima di comprendere appieno e quindi essere anche più sicuro di andare ad investire su degli asset, perché quando metti i tuoi soldi devi essere sicuro, perché non è semplice investire quando tutto è rosso. È chiaro che la gente sbaglia perché possiamo dire che è normale, uno compra quando è verde perché pensa che salirà, in realtà devi comprare quando tutto è rosso, ma non è facile e io non ho mai sfruttato questo ambiente, questo settore come questa volta e devo ringraziare pubblicamente ai ragazzi Alex e Manu che mi hanno dato questa opportunità meravigliosa di stare dentro a questo gruppo, io lo consiglio, sono riaperte le iscrizioni fino all'8 ottobre, poi non credo che riapriranno perché ci siamo, siamo ad ottobre 2023, noi di solito stiamo accumulando, accumuleremo fino all'Halding, poi dopo non accumuleremo più, questa è l'ultima occasione, entrate, vi portate in pari con i portafogli, imparate e conoscete questo settore, imparate, c'è una sezione con i wallet, c'è una sezione quotidiana con le analisi di Alex, c'è il copy trading, per chi si abbona per 12 mesi o per 18 mesi, incluso che guadagniamo, Alessandro è partito alla grande, con il copy trading speriamo che duri, ma ora stiamo lucrando parecchio e quindi quello è tutto capitale che aggiungiamo, che possiamo guadagnare e aggiungere ai nostri portafogli, poi ognuno fa quello che vuole, però almeno dati una possibilità, l'Halding manca poco, ma ancora se in tempo, credo sia l'ultima occasione, entra, guarda la Deserve Academy, ti abboni, entri dentro, ti consiglio lifetime, 18 mesi, entri e vieni guidato sia nella costruzione dei portafogli, sino a quando non ci dicono di vendere, perché nessuno lo sa quando la Bull Run finirà e poi quando entrano in ballo le emozioni, è difficile e quindi è meglio essere seguiti, sia nella costruzione, perché se sei come me che ovviamente fai un altro lavoro, non è che puoi stare lì a studiare i grafici e quant'altro, io sto nel gruppo, ogni settimana poi c'è una live dove a volte spiegano, a volte si parla di sicurezza, che è molto importante, come proteggere le nostre cripto, oppure si parla dei progetti in cui stiamo investendo, ci spiegano perché, il potenziale che hanno, noi impariamo un sacco di cose e io ho imparato anche a investire autonomamente, ok, poi in base alle risorse, ma è un grande gruppo, veramente, se c'è qualcuno della Deserve Academy che guarda i miei video, commentate quanto è bella la Deserve Academy, in descrizione c'è il link, vi lasciate la mail, vi guardate la videopresentazione, vi guardate anche il corso gratuito, il metodo matematico per guadagnare con le cripto, per capire l'opportunità che avete davanti, iscrivetevi, avete tempo fino all'8 ottobre, probabilmente l'ultima volta, poi non apriranno più le iscrizioni perché non ha senso, in questi mesi finiremo di costruire i nostri wallet, non so quanto ci vorrà, siamo, quello da 10.000 ha più della metà, quello da 1.000 ancora, ancora, ci sono pochi progetti in cui abbiamo investito 4-5 cripto, quindi ragazzi, quello da 1.000 si recupera facile, anche se avete poco budget, tutti e due portafogli hanno target 100.000, cioè ci rendiamo conto, quello da 1.000 che ha target 100.000, magari non arriva a 100.000, ma arriva a 50.000, 60.000, può arrivare anche di più, può succedere di tutto, abbiamo visto, abbiamo sempre detto, della situazione, forse è l'ultima bull run che ci permetterà di fare questo guadagno perché stanno arrivando gli istituzionali e se arrivano di brutto le banche, i governi, a investire anche su bitcoin in maniera regolamentata con un ETF, ce ne sono una marea che stanno aspettando l'approvazione, quando questa approvazione arriverà ed è inevitabile, il prezzo potrebbe schizzare e poi non lo porti più giù, più di tanto, cioè quando arriva tutta la massa, tutta la gente, più di così, non si può muovere, quindi è adesso che tu devi sfruttare questo momento storico, io ho fatto una marea di video, mi sono sgolato, io non vedo l'ora che non aprono più le iscrizioni così, non faccio più questi video perché sembro scemo, poi a me, che mi frega, cioè sì, ovviamente ho una percentuale, ci guadagno, è meraviglioso e lo faccio anche per ringraziare perché loro ovviamente sono entrato in contatto con loro aprendo questo canale YouTube, iniziando a fare video sulle cripto, quindi per collaborare loro mi hanno buttato dentro in questo gruppo e in cambio appunto di promozione ed è meraviglioso e quindi io devo, mi impegno sempre tanto quando riapro le iscrizioni e devo sempre fare la mia parte portando qualcuno dentro e sono contento di averli aiutati a crescere, ho portato un po' di persone, però dall'altra parte dico, cioè io veramente, sono veramente disinteressato perché non è quella piccola percentuale che guadagno facendo rientrare attraverso di me che guadagno, cioè il grande valore di questa community è proprio la costruzione dei portafogli, è proprio il servizio in sé, cioè non è che ho altri interessi, quindi fate come volete, il link è in descrizione, fino all'8 ottobre, sono riaperte le iscrizioni, avete praticamente, lasciate la mail, vi arriva la videopresentazione, vi arriva anche il corso gratuito di un'ora, ve lo guardate, sotto i video ci sono tutte le istruzioni per pagare e se volete c'è anche un modulo per lasciare, per parlare con me, se avete dei dubbi, volete parlarne dal vivo al telefono, lasciate i contatti, io vi scrivo su WhatsApp, ci mettiamo d'accordo per una call, così mi fate tutte le domande che volete, più di questo, c'è tempo fino a domenica 8 ottobre, da che parte vuoi stare quando Bitcoin sarà sulla bocca di tutti, vuoi stare col portafoglio ancora da costruire, quindi compitizierai poi perché ti viene la fomo, paura di perdere un'opportunità, comprenderai a prezzi altissimi, o vorrei essere quello che vende e quindi poi guadagna, a te la scelta, i link sono in descrizione, ti aspetto dentro, ciao!